E continuiamo a parlare di teatro perché questa sera prende il via la stagione 2024-2025 del Teatro Lendi di Sant'Arpino. Sono dieci degli spettacoli effettivamente imperdibili che andremo a raccontare oggi in compagnia di Francesco Scarano, direttore artistico del teatro. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, quindi dopo il successo della scorsa stagione, anche quest'anno effettivamente il Teatro Lendi propone un cartellone di appuntamenti imperdibili che partiranno proprio questa sera con una pietra miliare, diciamolo, del musical. Sto parlando di Grease. Che cosa dobbiamo aspettarci? Sì, la Grease-mania, così direi, ha già contagiato il Teatro Lendi e stasera contagierà il nostro pubblico. Era da tempo che volevo portare in teatro uno spettacolo del genere, diciamo il musical dei musical, un po' il papà di tutti i musical. E finalmente ci sono uscito quest'anno e stasera appunto aprirà Debuttera Grease e non solo, aprirà la stagione del Teatro Lendi con un super spettacolo. Poi la compagnia dell'arancia, insomma, una compagnia storica del musical. Come state vivendo questa attesa? Guarda, con tanta, diciamo, ansia da prestazione, direi, perché poi la stagione apre, apre con uno spettacolo di questa importanza, che tra l'altro, ecco, io dirigo il teatro ormai da quasi 15 anni, ma in effetti è stata più un'idea, anzi, sono stato più contagiato da mio figlio, che ha solo i nove anni, si è interessato in primis al film e poi al musical e quindi mi ha incoraggiato ulteriormente a prendere lo spettacolo. Quindi c'è tanta, tanta attesa e il pubblico lo attende con tanto piacere. E poi successivamente sarà la volta del celebre trio comico nostrano, sto parlando di Dito e di Vui, che porteranno in scena appunto dal 27 di novembre il loro spettacolo Bang Bang, una commedia quindi tutta da ridere, immagino. Sì, come da tradizione il teatro Lendi propone sempre una varietà di spettacoli nei generi, quindi non manca nulla anche quest'anno, quindi si parte col musical, poi c'è la commedia comica con i Ditelo Voi, c'è la prosa con Perfetti Sconosciuti, non manca la tradizione con spettacoli come Peppe Barra con la Cantata dei Pastori, la stessa Lina Sastri, Massimo De Matteo con la Santarella di Scarpetta, la musica con Peppe Servillo e i Solist Sting Quartet, quindi la comicità con Peppe Odice, con Biagio Izzo, un one-man show con Massimiliano Gallo e i suoi musicisti. Molto variegato. La stagione si presenta sempre con grande varietà di generi affinché il pubblico sia sempre soddisfatto. Quindi poi a concludere effettivamente quest'anno, il 2024, abbiamo uno spettacolo tratto dal film di Paolo Gionovese, mi sembra di vedere Perfetti Sconosciuti, che è divenuto poi effettivamente una commedia teatrale. Che momento sarà? Io ho avuto il piacere di vederla già la commedia ed ecco perché sono stato ancora più convinto di sceglierla. E in effetti è una commedia, o meglio il film è stato fatto prima della commedia, ma sembra quasi che il film sia tratto dalla commedia. Questa è l'impressione che ho avuto a fine spettacolo. È perfettamente teatrale, quindi uno di quegli spettacoli che ti fa immergere ecco nella storia, ti immerge nella storia e ti trattiene per due ore, anche un po' col fiato sospeso, attendendo gli eventi, il susseguirsi degli eventi. Quindi è una stagione effettivamente stupenda che continuerà poi effettivamente per tutto il 2025. C'è stato un criterio per scegliere questi spettacoli? Guarda, io dico sempre che il pubblico è sovrano, quindi è il mio socio in affari, pure da sotto un certo punto di vista. Il criterio è quello di cercare di soddisfare appunto loro avendo imparato a conoscerli. Quindi è il corso di questi, di oltre un decennio, in cui io ho gestito il mio teatro e quindi ho imparato bene a capire quali fossero le esigenze del mio pubblico ed è così che ogni anno penso alla stagione successiva e a cosa promuovere e proporre. Ecco, quanto è importante alimentare anche proprio la cultura teatrale, soprattutto in periferia? Guarda, io penso che sia una medicina, dovrebbero prescriverla proprio come cura rispetto a un certo criterio. Ed anzi, è anche un modo il teatro, proprio come struttura frequentandolo, anche un allontanamento dalla cupezza che invece c'è nel nostro Interland, che effettivamente offre poco. Quindi quelle cose, diciamo, quelle luci che si accendono, è bene andarle a frequentare. Quei luoghi in cui ecco la cultura ti allontana anche da situazioni particolari, ecco, soprattutto riguardo ai giovani. Fa solo che bene. Sì, al limite, ecco, dietro un giovane che poco avvezzo ad andare a teatro potrebbe esserci dietro un bravo attore, ma non solo un bravo macchinista, un elettricista, un datore luci, un regista. Perché? Perché no. E anche quest'anno, tra l'altro, poi torna il vostro laboratorio teatrale a proposito di giovani, riduce dal successo dello scorso anno, uno strumento che, ecco, avvicina giovani, ma anche non proprio giovani, grandi e piccini, possiamo dire, al meraviglioso mondo del teatro. Sì, come dicevi, dopo il successo dello scorso anno abbiamo ripetuto anche quest'anno il laboratorio teatrale, creando anche una sala doc per far appunto questo laboratorio. E' aperto a tutti, ai giovani, ai meno giovani, a tutti coloro che al limite della vita non hanno avuto il momento, lo spazio, il tempo per mettersi in gioco sotto un certo punto di vista. E oggi anche un po' più grandi, con un po' di tempo in più, riescono ad affrontare anche questa vecchia passione che non hanno mai potuto mettersi, mettere in campo. Quindi una stagione, direi, effettivamente da non perdere. Tra l'altro voi avete anche proprio un vostro personale claim, sorridi, emozionati, sogna, sei a teatro. Sì, sì, è quello che dovrei, è diciamo un po' il riassunto di quello che si deve vivere quando sei a teatro. Quindi queste tre hashtag sono quello che mi aspetto che il pubblico viva, quindi che ogni volta, una volta aperto il sipario, per me lo spettacolo diventa il pubblico. Quindi io mi concentro a guardare loro e dai loro volti cerco di trarne, ecco, se si stanno divertendo, emozionando e se stanno eventualmente sognando. E quindi in conclusione, perché non perdessi nemmeno un appuntamento di questa stagione nel Teatro Lendi? Ma semplicemente perché a teatro si respira la vita, quindi venite a teatro. Ebbene, io ti ringrazio di essere stata in nostra compagnia questa mattina, mattina live. Quindi ringraziamo ancora una volta il direttore artistico del Teatro Lendi di Sartarpino, Francesco Scarano.